Musica Molti di quelli che siete presenti avete sicuramente il ricordo di quella che era la sontuosa chiesa madre del comune di Montevago prima del sisma che l'ha distrutta. Questo rappresenta il plastico. Nel vecchio centro sorgerà uno spazio da poter fruire, da poter vivere. Si sta espletando la gara in questi giorni per il progetto che è solo uno stralcio di un progetto più grande. Uno stralcio di progetto di 750.000 euro finanziato dall'assessorato regionale alle infrastrutture e prevede la messa a sicurezza delle colonne, il recupero del pavimento della chiesa madre e sicuramente nel fare questi lavori altri reperti verranno alla luce. Abbiamo anche partecipato ad un progetto con il ministero dei beni culturali per un milione di euro per continuare il ripristino della vecchia chiesa madre. L'intenzione è quella di recuperare il più possibile la memoria di un duomo dove i nostri nonni, i nostri padri, si sono sposati, sono nati, si sono battezzati, hanno celebrato funerali. Questo vuole essere il senso del recupero della vecchia chiesa madre di Montevago.